salve a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale io sono antonio e quest'oggi vi voglio parlare di un dispositivo un po diverso dagli altri un dispositivo di solito molto sottovalutato stiamo parlando delle prese smart prese intelligenti facili da installare plug and play questo è un dispositivo della kojic un'azienda che fa veramente dei bei prodotti sempre per la smart home tutti i prodotti smart in generale infatti oltre a un design veramente piccolo nelle dimensioni comunque non dà tanto nell'occhio questo prodotto è ottimo anche perché è compatibile veramente con qualsiasi cosa che c'è sul mercato compatibile con apple home kit quindi possiamo usarlo con con l'iphone con consiglieri in generale compatibile con google home quindi dai nostri sistemi smart che abbiamo visto in passato è perfettamente compatibile inoltre è compatibile con alex anche purtroppo al momento non in italia perché non c'è ancora la skill in italiano ma arriverà a breve anche la skill in italiano la confezione c'è scritto che questo dispositivo può sopportare fino a 10 ampere di di carico per un massimo di 2500 watt di corrente che può passare all'interno quindi banalmente noi la potremmo utilizzare per molteplici utilizzi in casa che ne so ad esempio il tostapane se non se non supera queste questi assorbimenti possiamo preparare il panino quando arriva a casa da remoto diamo diamo il via e ci scalderà il panino ad esempio oppure banalmente ve ne dico una visto che siamo nel periodo natalizio gli attacchiamo le lampade natalizie e la programmiamo via software via applicazione che si accende si spenga in determinati orari o decidiamo noi come farla accendere ci sono molteplici utilizzi di di questa di questa presa inoltre possiamo vedere i consumi dell'utilizzatore che attacchiamo via app vediamo quanto sta consumando l'utilizzatore che noi abbiamo attaccato a questa presa questa è una cosa molto furba interessante secondo me vi ricordo che questi oggetti sono metterò il link in descrizione e inoltre se vi sono stato utile o se vi sarò utile con i miei futuri tutorial vi invito a iscrivervi al canale e a mettere un magari un mi piace bene proviamo a fare un unboxing di questo di questo prodotto tolti i sigilli impaccamento proprio in stile apple possiamo vedere che tolto il manualetto che ha diverse lingue tra cui l'italiano abbiamo subito il nostro dispositivo a porta di mano andiamo a rimuovere dalla confezione abbiamo il nostro codice lì il nostro codice identificativo sul dispositivo e anche sul libricino quindi ci viene veramente difficile perdere perdere le nostre istruzioni ok userò questa ciabatta come fonte di alimentazione perché dietro ha una una spina asciuco davanti avrà anche una spina asciuco quindi potremmo usare o dispositivi sciuco o adattatori che esistono sul mercato senza problemi allora vado ad alimentare possiamo vedere che cerca subito la rete con con la e lampeggiante io in questo caso l'ho già configurata e più tardi vi farò vedere come come si fa una volta che finisce di lampeggiare vorrà dire che ha trovato la la rete ed è tutto a posto adesso ha smesso di lampeggiare possiamo vedere l'applicazione questa qua il dispositivo è online io ogni volta che vado a premere la e diventerà verde che sta significare che le dentro è eccitato quindi esce corrente possiamo vedere che ogni ogni volta che premo assolutamente molto brillante e veloce cambierà lo stato della della presa smart inoltre la bellezza di questa presa e anche che possiamo vedere i consumi oltre avere una bella grafica anche l'applicazione se io tengo premuto col 3d touch questo dico in caso di iphone possiamo vedere la corrente assorbita al momento al momento non ho assorbimento quindi 0 watt però possiamo vedere tutto lo storico degli assorbimenti avuti in passato inoltre abbiamo diverse diverse opzioni di settaggio dal dall'azionamento di di alexa e google home a tutti tutti i vari settaggi e parametri che possiamo scegliere noi l'applicazione è ben fatta c'è uno store anche se vado nella sezione store ditemi se vi interessa qualche oggetto di questi da da portare sul canale in più abbiamo la sezione intelligente che sarebbe per creare le scene in più abbiamo la nostra la nostra sezione utente dove possiamo cambiare lingua tutte le varie cose solite che possiamo fare bene ora per per una chiarezza di informazione superiore ho risultato la nostra presa smart ho cancellato l'accessorio dall'applicazione e andiamo a programmarla insieme veramente veloce e rapido praticamente dobbiamo andare a scansionare il codice che c'è sul dispositivo oppure quello che abbiamo sulle confezioni prendo il mio libricino il mio telefono capirà subito l'accessorio che voglio che voglio collegare premo connetti e sarà veramente immediato e veloce l'abbinamento tra un iphone e questo dispositivo bene quando è così e proprio in pochi secondi ci tirerà fuori il nome della presa vuol dire che l'abbinamento è riuscito andiamo a cambiargli il nome io la chiamerò presa smart stanza possiamo fare soggiorno senza problema tipo presa fine e da questo momento in poi saremo operativi funzionerà tutto io premo dall'applicazione e la nostra presa cambierà lo stato come vi dicevo prima dettagli potenza assorbita in questo momento 0 watt quindi nessun assorbimento ma se se noi vogliamo inserire qualcosa si può fare inoltre abbiamo tutto il timer per programmarlo giorno per giorno accensione spegnimento come vogliamo esattamente come un qualsiasi timer in più opposto sarà smart inoltre possiamo vedere anche che dall'app casa del nostro iphone possiamo accendere e spegnere la la presa kojic senza problema inoltre possiamo usarla anche con siri in automatico ehi siri accendi presa smart possiamo vedere che senza problemi anche con siri riusciamo a comandare la nostra presa smart kojic questa presa smart è disponibile ovviamente anche per i dispositivi android la programmazione leggermente diversa ma il risultato è lo stesso bisogna creare il proprio account come come in ogni dispositivo e andare ad aggiungere la presa e il dispositivo desiderato in questo caso noi vogliamo la kojic p1e versione europea farla brillare nel modo che dice l'applicazione quindi in ricerca dispositivo e fare next veramente molto facile anche anche questo questo procedimento tutto veloce e intuitivo inoltre sarebbe anche possibile comandare questa presa in maniera manuale adesso vi farò banalmente vedere con questo alimentatore della ok che ho comprato al black friday premo questo tasto si accende il relè mi alimenta l'alimentatore e il telefono va sotto carica ottimo veramente facile e intuitiva questa questa presa da da programmare da installare proprio rapida in dolore plug and play subito col nostro smartphone andiamo gestiamo tutti i carichi consumi e orari veramente un ottimo prodotto assolutamente consigliato se volete video tutorial su qualche altro tipo di oggetto che vi possa interessare scrivetemelo nei commenti provvederò a fare magari un tutorial bene ci vediamo ai prossimi video